Roma, 17 martedì, a Scanevs, tra stasera e domani sentirò per telefono i principali esponenti di tutti i futuri gruppi parlamentari. Salvini, Brunetta, Meloni, Martina e Grasso. Lo scrive su Faceboiochi il capo politico del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio. Precisando che i contatti con le altre forze politiche riguardano l'individuazione delle figure di garanzia dei presidenti di Camera e Senato. Voglio parlare loro con franchezza, chiarezza e onestà. A ognuno di loro, anticipa Di Maio, dirò che noi vogliamo coinvolgere tutti in questa fase di individuazione delle figure. Che presiederanno le camere? Naturalmente riconoscendo il peso specifico di ogni vincitore. Come vedete stiamo facendo tutto in assoluta trasparenza. Questa è una importante novità per le dinamiche della politica italiana. Sono fiducioso che tutte le forze politiche saranno influenzate positivamente dal nostro metodo, e che si possa aggiungere a un ampio consenso parlamentare sulle figure di entrambi i presidenti.